Selezione ufficiale Festival di Canna Miele è una ragazza come tante altre Si chiama Grimaldi, stai attenta Ma nella sua vita si nasconde un segreto Ma tu dici solo cazzone? Ma stai a fare? Che vai a fare messi? Jasmine Trinker, Carlo Cecchi, un film di Valeria Golino Noi dobbiamo essere invisibili Miele, dal primo maggio al cinema Io e mio fratello uccidiamo streghe per vivere Ma chi prende in giro? Lo facciamo perché ci piace Il metodo migliore per uccidere una strega Decapitarle sembra che funzioni Sai cosa ti dico? Bruciamole tutte Ammazziamo qualcosa Hansel e Gretel, cacciatori di streghe Dal primo maggio al cinema Le dirò la sincera verità La sincera verità su di me Sono figlio di gente molto ricca del Middle West Così deceduti adesso Ho vissuto in tutte le capitali europee Collezionando gioielli Poi scoppiò la guerra, vecchio mio Sarà stato tutto vero? Gatsby Aveva un'eccezionale propensione alla speranza Ma io avevo l'inquietante sensazione che coprisse un segreto Gatsby? Quello Gatsby? Sono tanto contenta di rivederti Anch'io sono contento di rivederti Non si replica il passato Certo che si replica Voi adesso mi vedete in una situazione Leggermente imbarazzante Ma io ero un grande uomo Non mi mancava niente Avevo i soldi, il successo E una moglie bellissima Perché non andiamo a farci una vacanza? Lo sai che ci sono dei conventi sperduti? Ma poi un giorno arrivò lui Carissimo Occhio! Scusami Biagio, sai ma È Dennis lì che mi faceva ridere E la mia vita andò a fondo Sempre più a fondo Un momento però Non è andata come immaginate Signor Bianchietti Lei ha diritto a un bonus di una settimana da trascorrere sulla terra Può diventare chi le pare Dennis Rufino, il grande manager Ciao Tone, sono Dennis Sì, sto partendo Caro Dennis, benvenuto Tutte me le devo pagare, tutte Per te Pasta di soia fermentata E in voltini di alghe crude So tutto Ma chi me l'ha fatto fare? Chi me l'ha fatto fare? Hai fame? Meglio Devi essere una bestia affamata Quando lo azzannerai per finirlo Eh? Ho esagerato? Tu devi esagerare Virginia Ma smetti di corteggiare mia moglie Voglio dare una svolta umanitaria al mio lavoro Non ne importa niente delle donne africane Sono altre le donne che le interessano Avrebbe bisogno di una lezione Danny! Bondage Dimmi Bondage Ma chi è? Chi è? La conosco E a proposito di cena Ovviamente giapponese Ma tu hai capito chi sono io, eh? Hai capito chi sono io? Io non sono Dennis Rufino Io mi sono reincarnato Ottone, dammi la mano, Ottone Non voglio morire Muni dopo, cretino Dammi la mano Guarda lui Scusa che mi ci devo ancora abituare E dai, eh E muovete Che stai a fare? Ancora stiamo a pagare quel talenzione E che devo fare? Ma non si vede più che ha messo un televisio Come non si vede più? Chi ha te? Lo dico io Devi rifare la sintonizzazione al decode digitale terrestre Ah sì? Levate E come si fa? La faccio io Bravo Vedi te li sintonizzate pure te Se no te meno